Presicce Acquarica è un comune pugliese della provincia di Lecce, i cui abitanti sono detti presiccesi o mascarani per presicce, acquaricesi o patimori per acquarica e il suo santo patrono è Sant'Andrea. A Presicce si concentra tutto il sapore del sud, la terra rossa del Salento con i suoi ulivi dai tronchi contorti e i muretti a secco accoglie il visitatore che già respira libero l'aria del mare. Le masserie fortificate sono un'altra meraviglia anche se in qualche caso la trasformazione in resort con piscina toglie la magia. Per tornare all'autentico basta entrare nel centro storico e inoltrarsi nel bianco labirinto di spazi in cui si alternano palazzetti nobiliari e cinquecentesche case a corte, insomma quello che fu il popolo della gleba di fronte ai signori. Le stradine rastricate, pavimentate e abbasolato, si lasciano percorrere con la giusta indolenza sotto un cielo senza nuvole e ti portano davanti a un'edicola mariana, a un edificio importante come Palazzo Arditi o al giardino pensile di gusto secentesco che macchia di verde le superfici del Palazzo Ducale. Ogni palazzo qui ha il suo giardino o cortile e il suo frantoio ipogeo. Sotto la città barocca infatti si nasconde la città della fatica, quella dei frantoi scavati sottoterra per la frangitura delle olive. Agrumeti e palme nei giardini, luoghi di incontro degli abitanti nelle sere estive, incamerano la luce che li rende rigogliosi. Al tramonto dalla colonna di Sant'Andrea prendiamo via degli angeli per una passeggiata piena di miraggi al termine della quale c'è il convento degli angeli nella campagna dove respira il vento. A Presicce, città dell'olio e città degli ipogei, tutto ruota intorno al loro giallo al quale è dedicata anche una festa. I frantoi sottoterranei da visitare sono quelli di Piazza del Popolo, di Vico Sant'Anna e di Via Gramsci. Oltre ai monumenti, nel centro storico bisogna vedere gli vecchi curti, le case a corte, nei rioni Corciuli e Padre Eterno. Le principali si trovano in Via Arditi, in Vico Matteotti, in Vico Sant'Anna e in Via Anita Garibaldi. Su un'altura della serra di Pozzo Mauro è posta la piccola chiesetta rurale con facciata e capanna della Madonna di Loreto, di origine basiliana. Dietro alla chiesa una cripta bizantina è stata trasformata anch'essa in frantoio ipogeo. La campagna intorno a Presicce mostra immense distese di ulivi e masserie, corti dove un tempo abitavano più famiglie sotto il dominio di un feudatario. Alcune sono fortificate a seguito delle invasioni saracene e turche, come le masserie La Cesarana, Del Feudo e Tunna, tutte cinquecentesche. La masseria dell'Upescu è del Seicento e la monaci è ottecentesca. Nel 1700 accanto alle masserie sorgono le ville di campagna dei proprietari terrieri, chiamate Casine, come Casina degli Angeli del 1778 e Casinacelle. Il toponimo potrebbe derivare dal latino presidium, a indicare un presidio militare in funzione antisaracena. Secondo altri, il toponimo rimanderebbe all'abbondanza di acqua da presidium, sorto a causa della sede. Infatti, nel Seicento, le prime tracce di un insediamento sarebbero legate proprio alla presenza di acqua sotto forma di falde di superficie che avrebbe attratto in questo luogo gli abitanti dei vicini casali in tempi di siccità.